Ciao chicos, buongiorno, come state? Spero che abbiate passato un buon fin di settimana e niente, oggi essendo la nostra prima lezione online ho deciso di fare una lettura sulla unificazione del regno d'Italia questa lettura la avete a pagina 138 e 139 del vostro libro e niente, io la leggo, ho poi segnato un piccolo glossario e poi mi lascerò delle domande da rispondere per la comprensione vi volevo dire che molti di voi non mi hanno ancora consegnato il lavoro per email io avevo scritto che l'entrega, la consegna doveva essere entro la ora di classe quindi mi dispiace ma non posso più accettarlo ok, ora veniamo a noi e inizio a leggere l'Italia Unita, pagina 138 il regno d'Italia nasce nel 1861 dopo l'impresa dei mille guidati da Giuseppe Garibaldi il generale, infatti, insieme a mille giovani volontari sbarca in Sicilia e incita la folla a unirsi a lui nella ribellione contro i Borboni che, alla fine, lasciano il sud Italia il re Vittorio Emanuele II completa l'azione garibaldina conquistando le Marche e l'Umbria territori che appartenevano allo stato pontificio uno dei primi problemi che l'Italia Unita deve affrontare è quello dei trasporti si decide quindi la costruzione della rete ferroviaria e, per facilitare gli scambi commerciali, si aboliscono le dogane il governo cerca di combattere l'analfabetismo con l'istruzione elementare gratuita e obbligatoria è in questo periodo che nascono due famose opere letterarie per ragazzi Pinocchio di Collodi e Cuori di De Amicis intanto inizia la terza guerra d'indipendenza per liberare il Veneto dall'occupazione austriaca l'Italia firma un'alleanza con la Prussia e nel 1866 attacca l'Austria gli italo-prussiani vincono il conflitto ma non riescono a prendere il 33S nel 1870, dopo la sconfitta di Napoleone III grande difensore del Papa Vittorio Emanuele II può finalmente scendere nel Lazio e occupare Roma che diventa capitale del Regno Unito bene, oggi appunto si celebra il Regno d'Italia e quest'anno sono 159 anni e io mi sono segnata alcune frasi e alcune parole ad esempio sbarcare vuol dire incitare la folla incitare o animare alla gente appartenere sarebbe pertenecer a alguien o algo dogana, aduana istruzione elementare sarebbe la scuola primaria, la basica alleanza-allianzia e Prussia lo stato di Prussia, il Regno di Prussia era la Alemania, Polonia, Russia, Dinamarca Lituania, Belgica e Repubblica Ceca e attaccare e vorrei sottolineare che a pagina in fondo a pagina 144 avete la cartina e secondo me è molto utile quando leggete questo testo andare a vedere nella cartina dove sono le regioni come si può capire l'Italia prima dell'unificazione non era unita al sud c'erano i Borboni e il nord era diviso tra impero austriaco impero dello stato pontificio cioè della chiesa e poi c'erano Giuseppe Garibaldi insieme a Vittorio Emanuele II che cercavano di conquistare sempre di più i territori italiani detto questo andiamo a pagina 139 e ora leggiamo il paragrafo i problemi del nuovo regno cioè una volta unificato il regno quali problemi c'erano dopo l'unità d'Italia il nuovo stato deve affrontare molti problemi il nord è più sviluppato sia nell'industria sia nell'agricoltura mentre il sud a causa della precedente politica borbonica è più arretrato nell'Italia meridionale la povertà e il disagio provocato dalle tasse e dall'introduzione del servizio militare obbligatorio che toglie i giovani alle campagne danno inizio al fenomeno del brigantaggio molti italiani emigrano in America in cerca di fortuna e di una vita migliore la situazione migliora durante i governi di Giovanni Giuritti che aumenta dei stipendi riduce riduce le tasse riconosce il diritto di sciopero e il diritto di voto a tutti i cittadini maschi maggiorenni le parole sono sviluppo desaroio Italia meridionale l'Italia del sud l'Italia settentrionale la parte nord dell'Italia brigantaggio sarebbe bandolerismo stipendio retribuzione o salario quindi quando dice aumenta gli stipendi quindi subire incrementare le retribuzioni e poi ridurre le tasse cioè diminuire gli imposti sono le tasse riconoscere il diritto di sciopero riconoscere il diritto alla velga e il diritto di voto a tutti i cittadini maschi maggiorenni cioè a tutti i cittadini maggiorenni e le maggiore dad queste sono le domande la 1 quando avviene la proclamazione del regno d'Italia e chi la fa 2 quali opere letterarie nascono 3 quale problema deve affrontare l'Italia unita in questa domanda vi chiedo di guardare il primo paragrafo pagina 138 perché appunto spiega appena unificata quali problemi c'erano tra il nord e il sud 4 il governo come combatte l'analfabetismo e 5 quali sono le differenze tra l'Italia del nord e l'Italia del sud nel nuovo regno chicos io vi scriverò tutto questo sui dukai ci vediamo domani e se avete dei problemi o se volete scrivermi qualcosa e sto in pendiente e buona giornata ciao ciao